e ce la fanno tutti sta domanda e perché non rispondere anche il romagnolo perché non il romagnolo non dice la sua se è meglio l'inter del triplete di moratti o l'inter di simone inzaghi e di zang o di beppe marotta allora vi dico la verità la dico ve la dico adesso la dico prima di iniziare iscrizione al canale lasciate un like commentate attivate la campanella e condividete il video allora perché faccio sto video perché ho appena visto l'intervista di moratti e mi sono venuti brividi un presidente per voi giovani magari non lo conoscete ma un presidente che ha dato l'anima all'inter ha speso tutti i soldi che poteva spendere ci ha fatto vedere giocatori su giocatori su giocatori anche vincendo troppo poco per quello che ha donato all'inter e a noi interisti moratti da pelle d'occa rivedere il presidente che torna a casa e va a salutare i ragazzi è qualcosa di unico unico e qui non è interisti ventini milanisti qui è storia qui parliamo di storia parliamo di un presidente come berlusconi un presidente come agnelli personaggi che hanno cambiato la storia del calcio e hanno cambiato anche la storia del paese stiamo parlando di un presidente che ancora in vita al contrario degli altri due che purtroppo non ci sono più e che quindi ogni volta che parla va ascoltato e va ammirato che sia ben chiaro i ronaldo i re cova gli adriano i maicon i milito dietro gli ebraimovic e più ne ha più ne metta più ne ha più ne metta troppi sono troppi giocatori da elencare vieni tutti c'è di cosa parliamo crespo battistuta quanti li abbiamo visti abbiamo visti una marea una marea prima di lui c'era il padre poi arrivò a lui massimo ora quindi presidente un bacio un abbraccio e andiamo sull'argomento è meglio l'inter di moratti o l'inter di zang per me non sono paragonabili ma non perché una è più forte dell'altra perché negli anni di moratti le squadre che c'erano e i campioni che c'erano era diverso in quegli anni lì era pieno di campioni soprattutto in italia perché tutti venivano in italia e quindi paragonare il campionato e parlo anche di europa degli anni di moratti con quello di oggi amici miei ma dispiace dirlo peccato per voi che non li avete visti ma stiamo parlando degli anni d'ori del calcio gli anni d'oro del calcio cioè lasciamo stare altra roba e quindi secondo me il livello era molto più alto di adesso ok a livello di gioco a livello di gioco è meglio quella di zaghi è indiscutibile quella di zaghi di quest'anno è la migliore inter degli ultimi 50 anni o forse di sempre vogliamo esagerare di sempre però l'inter del triplete faceva paura julio cesare in porta mai con ad a destra luso samuel zanetti cambiasso stankovic tiago motta schneider milito eto pande e ballotelli di che parliamo di che parliamo in panchina c'era kivu cordoba c'era tanta di quella gente che c'è altra inter altri giocatori per me sono imparagonabili vi dico la mia per me sono imparagonabili proprio per questo motivo perché il livello di quegli anni lì era molto più alto del livello che c'è adesso però l'inter di simoni zaghi è la migliore nel gioco sicuramente quindi chi chiudo il mio video vi ricordo l'iscrizione al canale di lasciare un like e poi forse ci vediamo dopo in live se mi va di far la live per lazio milan ma noi che cazzo se ne frega di lazio milan una volta ci interessava adesso buona serata ciao 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 ciao